In questo ambiente, in questa luce molto scenario stile F65, chi non conosce la canzone I'm Blue, da ba di da da, volevo fare questo video appunto dedicato all'Atalanta perché l'Atalanta ieri ha avuto la meglio per 2-0 contro Ben Leverkusen in una partita veramente stradominata, ma sotto ogni punto di vista e io onestamente prima di pari di Atalanta vorrei esprimere un po' la mia sorpresa davanti a questo Ben Leverkusen veramente, non lo so, senza idee soprattutto sono rimasto stupito perché all'inizio partita Cebbi Alonso ha utilizzato questo attacco senza fondamentalmente punte, quindi con Adli, Wierz e Frimpong con uno Stanisic largo a destra, molto difensivo come esterno soluzioni già utilizzate in campionato, però soprattutto quando Stanisic giocava largo Frimpong alto come braccetto vi era Cusunu, infatti invece ieri ha giocato Tapsoba e secondo me Alonso ha voluto impostare questa gara all'insieme dell'imprevedibilità quindi ha detto con la difesa che quando schierata è veramente tanto solida dell'Atalanta mettendo questo attacco con Adli che è fondamentalmente un'alla offensiva come punta magari voleva scombinare un po' le uova nel paniere, in realtà non ci è riuscito assolutamente nel secondo tempo poi è entrato Boniface o come lo chiamo io Bonifacio è entrato Bonifacio e quindi l'attacco ha preso un po' più forma però ormai secondo me la partita quantomeno al 50% a livello morale era già ben candata dovevano soltanto sperare in un crollo dell'Atalanta a livello fisico, a livello mentale e poi magari tentare quantomeno il gol per poi arrivare magari alla zona Berle Verkusen in quanto più volte in questa stagione il Berle Verkusen ha riacciuffato o ha vinto nei minuti di recupero quindi questa dovrebbe poter essere una interpretazione della partita stessa di contro un'Atalanta monumentale, ha interpretato la partita in modo eccezionale ha avuto la bravura e tra virgolette anche la fortuna essendo incappato in questa prestazione oripilante della difesa del Berle Verkusen le ha furto di sbloccarla subito e sbloccare subito una partita che poteva diventare molto contratta per tutti i primi 45 minuti appunto questo gol invece ha aperto totalmente i cancelli all'Atalanta perché insomma poi è arrivato il secondo gol di Lukman bellissimo gol, anche il terzo bellissimo gol anche costruiti con intelligenza perché il terzo gol lui ha puntato clamorosamente Tapsoba che era già stato ammonito per un fallo su Lukman e quindi voglio dire, Lukman ha detto io ti vado nello contro uno tu o mi interveni alla di rigore e rischi di farmi rigore o non mi interveni quindi ha preso la scelta migliore Lukman e poi anche gli altri gol, soprattutto ripeto il secondo gol ha fatto un tunnel a Ciaka che aveva del clamoroso certo anche questa cosa che il bel Leverkusen sia entrato in campo senza puri incontristi non lo so ma comunque io penso che tante squadre quantomeno l'85% di squadre del mondo avrebbe sofferto ieri contro Atalanta perché un Ederson monumentale, un Gasperini che è sceso in campo con una squadra totalmente offensiva con un Copminers centrocampista centrale insieme a Ederson con un De Keteler, un Lukman e uno Scamac quando hai come ali Ruggeri a destra avevi Zappacosta e l'altro centrocampista centrale oltre ai Copminers in assenza di Deron è stato Ederson Ederson assolutamente uno dei migliori uomini in campo e per questo va fatto un plauso a Gasperini perché da quando era alla Sernitana l'ha completamente cambiato da mezz'ala a centrocampista box to box diventato anche utile con l'intelligenza più che col fisico in fase difensiva propositivo in fase offensiva veramente ragazzi un giocatore Ederson che si è totalmente trasformato e sono contento anche per Gasperini Gasperini che fondamentalmente con questa partita, con questa vittoria cancella secondo me un pochino la macchia di quei mesi all'Inter dove molti poi cominciano a dire eh ma Gasperini forte magari con il Genoa sa insegnare calcio ma con i big che ne minga adesso invece l'Atalanta fondamentalmente è una squadra big tant'è che Gasperini appunto è ricercato non dalla polizia ma dal Napoli ovviamente io non intendo dire che adesso dopo la vittoria dell'Europa League Gasperini si è diventato un fenomeno eh con con le big perché magari quello è il suo habitat ma non ha allenato mai una big a parte quei mesi all'Inter ma ha trasformato una squadra come l'Atalanta in una big perché secondo me è da considerare ora come una big del calcio italiano dopo ci sarà da parlare sul discorso dell'eventuale successione perché secondo me un piccolo scotto eventualmente da uno di Gasperini ci potrebbe essere quantomeno a livello di struttura di squadra però ormai la struttura stessa è questa cioè se arriva un allenatore coscienzioso dal giusto carisma saprà sicuramente condurre saprebbe eventualmente condurre l'Atalanta anche perché fondamentalmente il futuro di Gasperini o ha bleffato oppure veramente ancora da decidere perché comunque lui ha fatto una dichiarazione anche molto simpatica mi trovo una situazione di avere una moglie e tanti bei figli ma conosce una donna bellissima questa donna bellissima potrebbe essere ad esempio Napoli o magari altre offerte che avrebbe potuto già avere Gasperini ma che magari non sono state rese note chi lo sa e questo veramente a me onestamente mi farebbe piacere qualora Gasperini andasse avanti con l'Atalanta onestamente perché secondo me è la sua non dico comfort zone ma ben venga diciamo anche comfort zone però giustamente Gasperini non ha più vent'anni quindi vuol dire magari potrà concludere con l'Atalanta chi lo sa stiamo a vedere ma l'ombra delle bighe è sempre lì secondo me soprattutto per la vittoria di quest'Europa League e poi voglio fare anche un ringraziamento perché ho avuto la fortuna diciamo così e l'onore di commentare questa partita su best5.it ringrazio ancora il team di Best5 dalla Spagna ho l'amigos dell'Espagna grazie al team italiano grazie Simone che mi hanno dato questa opportunità ed è stata veramente una diretta molto bella una partita piacevole da commentare con ottimi ospiti tanti spunti ma soprattutto nel mio piccolo mi sento soddisfatto perché ho commentato la prima vittoria di un italiano in Europa League ma soprattutto la prima vittoria dell'Atalanta io da oggi un quid un x per cento diventerò tifosi dell'Atalanta ma per un motivo perché se quando vi lega a un qualcosa a un evento vi lega un qualcosa di core vi lega una sensazione e io quando rivedrò Copminers Scamac e tutti questi qui vedono l'Atalanta a me tornerà in mente la finale che ho commentato e ringrazio ancora perché veramente soprattutto è gol di Lukman veramente un app clamoroso divertentissimo e ringrazio appunto ancora il team di best5.it che mi hanno concesso questa opportunità fatemi sbera ovviamente qui sotto nei commenti come la vedete come avete visto la partita se vi fa piacere l'Atalanta o meno come avete visto il bel Leverkusen anche ah mi stavo dimenticando nel secondo tempo Gasperini ha gestito perché si è schiato con un 5-4-1 con Ruggeri Zappacosta Bassi ha messo Scalvini in campo e uno tra Scalvini e Ian andavano ad alzarsi al centrocampo per poi tornare indietro con le due ali e Scamacca davanti quindi ragazzi ha semplicemente gestito Gasperini ha capito il mood di ieri quindi ripeto fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete visto la partita penso proprio di sì ditemi i vostri commenti e grazie ancora a bestify.it muchas gracias amigos ciao ragazzi